L'incontro questa mattina in prefettura a Catania, poco più di mezz'ora di scambio di battute tra il sindaco di Paternò Pippo Faile ed il prefetto di Catania Vincenzo Santoro. Un incontro al quale era presente anche il vice prefetto Vincenzo Galeani, uno dei tre componenti della commissione di indagine, arrivata a Paternò la scorsa primavera ed incaricata dal Ministero dell'Interno di svolgere approfonditi accertamenti sulla vita amministrativa dell'ente comunale. Abbiamo chiarito alcuni passaggi sulla vicenda e riferimento soprattutto alle notizie riportate dalla cronaca nazionale, ha affermato il sindaco di Paternò Pippo Faile, è stato un incontro sereno e cordiale. Ed il sindaco questa mattina si è presentato all'appuntamento con sotto braccio alcuni documenti relativi ai servizi sociali ed in particolare alla posizione di un dipendente comunale dai contributi erogati dall'assessorato stesso. Una sola domanda per il sindaco relativa all'ex assessore Frisenna arrestato a compadrini. Ho subito chiarito che non sospettavamo assolutamente nulla su Frisenna. E poi il sindaco consegna alla stampa un comunicato dove evidenzia, dalla lettura degli atti emerso a chiare lettere, che il Frisenna è indagato per fatti che attendono alla propria sfera personale e che non ha commesso alcun reato nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e persino neanche durante la fase dell'ultima competizione elettorale. Tutto ciò continua Failla nel comunicato Mirasserena e conferma la fiducia da me sempre avuta nei confronti dell'operato dei giudici. Intanto per mercoledì il prefetto di Catania Santoro ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che dibatterà proprio della vicenda Padrini, da cui è attesa la relazione finale dello stesso prefetto da inviare al Ministero dell'Interno. Solo dopo si saprà se Paternò sarà sciolta per mafia o se la vicenda verrà davvero archiviata.